Torniamo un pochino indietro, come vi siete conosciuti? Perché voi chiaramente non siete italiani, siete brasiliani, siete conosciuti di anche perché tu sei brasiliano? Sì, io sono di San Paolo e lui di Recife, più a nord, quindi lui è andato a San Paolo per giocare. E siamo conosciuti lì, nella chiesa, a San Paolo. Io avevo 15 anni, lui mi aveva 17. Mi ricordo che ero in Brasile e un anno è arrivato che ha detto, ah, penso che andiamo a vivere a Roma. A San Paolo per giocare. Quindi per me è stato facile, non è stato difficile da uscire dal Brasile. Mi ricordo che siamo arrivati qui, i bambini erano tutti piccoli, non sono stati problemi, si sono subito abituati qui a Roma, quindi questo è stato perfetto. Dietro di un grande uomo, c'è sempre una grande donna. Io dico, non so se io sono un grande uomo, però avete qui una grande donna. Mamma mia, ecco dopo questo ragazzi, io ho finito, non è utile andare avanti, perché è proprio spettacolare. Un bacio, ciao! Ciao! Ciao!